Ma è arrivato un momento molto importante nella tua vita, lo lascio raccontare a te. Ho deciso di smettere di giocare il calcio, ora vorrei diventare allenatorice. Ma nella tua carriera hai avuto la possibilità di vestire tante maglie di squadre di livello, quanto ti ha reso contenta questa carriera? Sono molto contenta di mia carriera, ho conosciuto tante persone, ho visitato tanti posti, poi sono migliorata come personalità. Se dovessi scegliere un momento di questa tua carriera, quale sceglieresti come più bello? Prima partita di Serie A, perché il mio sogno è giocare in Serie A. Che effetto ti fa sapere di essere vista come esempio per le tue compagne e per le ragazze più giovani? Sono molto orgogliosa di essere esempio per la mia compagna e per le ragazze. C'è un ringraziamento che vorresti fare in questo momento? Vorrei ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in 23 anni di mia carriera, compagna e staff, la mia famiglia e tifogi per tutti. Grazie a tutti. Mana, grazie e in bocca al lupo. Buona fortuna. Grazie. 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 Grazie.